Fino al 10 settembre Castellamonte ospita la 62esima edizione della Mostra della Ceramica. Al piano terra del prestigioso Palazzo Botton, tra le diverse mostre ospitate, trovano spazio le opere selezionate per il concorso internazionale Ceramics in Love 2023. Parliamo del concorso internazionale con il curatore della mostra Giuseppe Bertero. Siamo qui a presentare la 62esima mostra della ceramica di Castellamonte e contemporaneamente stiamo presentando il concorso Ceramics in Love che è giunto alla sua quinta edizione. E qui abbiamo le opere del concorso e cominciamo subito con il dire del vincitore e della sua opera, l'opera che arriva da Taiwan. È un'esplosione d'argilla secondo me che ha molto colpito la giuria. Poi chiaramente faremo tutto un giro. Le opere arrivano non solo dall'Italia, da Castellamonte, artisti diciamo locali, ma che locali è poco e loro ormai sono abituati a esporre in tutta Italia e nel mondo. E abbiamo opere che arrivano dall'Egitto, che arrivano dalla Tunisia, dalla Francia, da Israele e tante altre nazioni. Sono almeno 22. Da che abbiamo dato il via a questo concorso, Castellamonte è diventata più internazionale, si è aperta al mondo. Le opere sono particolarmente interessanti. Queste due opere qui, che sembrano due ciotole, in realtà nelle intenzioni dell'artista Evandro Casadio, vogliono essere un'offerta, come una ciotola per offrire qualcosa al mondo. Infatti offerta evolutiva. Quello di Andrea Roggi, che arriva da Arezzo, e poi quell'opera che arriva dalla Finlandia, tanto per citarne una, e in particolare queste opere che segnalano, che arrivano da Faenza. Faenza è la città a cui noi abbiamo dedicato l'intera mostra, proprio per essere il più possibile vicini a questa città, dopo quanto è accaduto con l'alluvione. E qui abbiamo tantissime altre opere. Da quella laggiù segnalata dalla giuria, che è di Anna Matola, che sono delle fotoceramiche molto, molto, molto belle, dove lei riproduce delle sue sculture, e una è in mostra. Poi abbiamo la gattara, laggiù in fondo, di Paolo Vannucchi, da Lucca, è una simpaticissima ceramica, scultura, e io sono molto contento che abbia presentato questa cosa, perché per i gatti anch'io ho una particolare simpatia, diciamo. E sono tantissime, cosa poter dire, ciascuna ha una sua caratteristica. Il terzo premio di questo giovane Ivan di Battista, che arriva da Saronno, costruito con dei bastoncini del sushi, non lo so come sono, ci ha impiegato due giorni ad allestirla, non ne potevo più, francamente, gli dicevo adesso basta, vattene, ti spacco tutte le ceramiche e i tuoi bastoncini. Sono molto contento dell'opera, della seconda opera che ha vinto, che è dalla Romania, Vlad, Basarab, che sono, è un trittico, sono davvero delle belle sculture. Cioè qui noi passiamo da opere più delicate della ceramica, ha delle vere e proprie sculture, anche se, come diceva Lucio Fontana, la ceramica è scultura. E noi qui ci siamo in pieno.